Laura, dopo una stagione regolare lunga e intensa, è il momento dei play-off, della fase decisiva. Avversario sarà Conegliano, come l'anno scorso, una squadra che conoscete bene, come l'anno scorso in tutte le partite che avete disputato, tanti set, dieci in due partite. Sì, abbiamo fatto gli ultimi mesi molto difficile, però come noi siamo molto consapevoli, ogni tanto ti trovi sempre in difficoltà, però ti tiri fuori. Adesso giochiamo un altro campionato contro Conegliano, che conosciamo molto bene, loro conoscono molto bene noi, e quindi quella che giocherà meglio vincerà. Ecco, è stata una stagione con qualche problema all'inizio, poi dopo il mercato di gennaio aveva cambiato un po' le cose in meglio, l'infortunio di Calloni a rimescolare un'altra volta le carte e poi adesso anche quello di Caterina, sicuramente anche la fortuna non è stata dalla vostra parte. Sì, diciamo che ci sono stati molti movimenti positivi e negativi quest'anno, cioè noi in questo momento dobbiamo guardare avanti, abbiamo avuto delle difficoltà molto forti, anche la cosa che è successa a Caterina, per noi è stata una cosa molto grave, molto dura, però guardando avanti, iniziando un nuovo percorso, faremo molto bene. Ecco, sarà importante sicuramente anche l'aspetto montale, perché anche Conegliano non viene da un buon periodo, ha qualche infortunio importante, chi riuscirà a metterci più convinzione in campo, potrà anche prendersi magari un vantaggio annullando quelle che possono essere le differenze in campo, sul piano tecnico, sul valore della squadra. Sì, credo che in questo momento non c'è una favorita, credo che dobbiamo dimostrare che abbiamo un bel gruppo, che sappiamo giocare a palla a volo, anche loro lo faranno, dobbiamo prepararci per quanto giocheranno, come giocheranno forte, e la migliore, vincerà e giocherà meglio. Ecco, torna il play-off col formato di qualche anno fa, la prima gara in casa della squadra che è arrivata più in alto in classifica, a differenza degli ultimi anni, secondo te questo per voi può essere un vantaggio, perché comunque la pressione è tutta dall'altra parte in gara 1, oppure meglio come l'anno scorso, secondo te come potrà essere con questo nuovo sistema? Non credo che per noi adesso c'è questa pressione, perché noi abbiamo fatto un percorso difficile, abbiamo anche perso Caterina adesso, e credo che noi adesso dobbiamo pensare solo a giocare, ad essere felice di stare in campo, quindi ovviamente sarà molto dura, perché è una squadra molto forte, però con la formazione che loro giocano alla prima in casa, secondo me non cambia tanto, in senso che alla fine se giochi meglio puoi vincere, quindi secondo me la cosa importante sarà quello.